È molto bello qua perché possiamo avere memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che sono state delle persone molto importanti nella storia siciliana perché hanno combattuto contro la mafia e ci hanno dimostrato che la mafia può essere sconfitta. Il primo coro sono 27, quindi li mettiamo tutti in piedi. Allora io qui mi sento così contenta. Con questa canzonetta, nel mio cuore ci si scelta, il mondo rispetta la felicità. Il mio vicepresidente del Consiglio Scurale dell'Università di Giovanni Legnini controfirma che insieme amministra questo patto di collaborazione che ve la impegnate le scuole del paese, primarie, secondarie e anche l'università in collaborazione con tutte le strutture della magistratura che collaborano tra loro che sono le strutture delle forze dell'ordine contro la mafia e per la legalità per sviluppare insieme una cultura. Grazie, grazie a tutti. A voi ragazzi vorrei dire che le leggi sono importanti, che i passi avanti vedono di essere sottolineati, che le azioni di contrasto dello Stato e la trasparenza dei suoi atti sono condizioni irrinunciabili per vincere questa battaglia. Ma vorrei dire anche a voi che non vogliamo mai dimenticare le nostre responsabilità dei cittadini, dobbiamo mai dimenticare i nostri doveri, che crescono anche nella nazione alla crescita dei nostri diritti. La frase di Giovanni Falcone che mi ha un po' canzi ascoltato è che io vorrei ripetere. Ci ricordo che gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continuavano a camminare sulle gambe di altri uomini. Quelle idee, quelle speranze ragazzi, hanno bisogno delle vostre gambe. Buon cammino a tutti noi. Grazie.